Oggi ragazzi, non incontriamo nessuna spada, non uniamo nessun altro piccone o quant'altro per fare dei regali ai nostri amici Ma in realtà sì, è un mezzo regalo quello che andremo a fare Perché oggi andremo a catturare un secondo mostrillo Perché sì, innanzitutto ragazzi salutiamo Olly, diamo il benvenuto a Olly Poi salutiamo anche Coco che da là in fondo ci segue sempre, dov'è campione? Ciao Coco, come va? Spero tutto quanto bene Ragazzi, noi oggi andiamo a catturare un mostrillo per il museo degli animali di Stavefere Lo so ragazzi, ho notato che i campioncini stanno facendo un museo degli animali Marge ha costruito un museo e ho anche scritto a Stef, gli faccio Stef, guarda, io ho un mostrillo E probabilmente sono anche l'unica persona all'interno della Big Vanilla Ad avere lui là in fondo, che è praticamente da fuoco a mezzo mondo, mezzo universo E ne ha sponato un altro ragazzi, ma che diamine me ne è comparso uno davanti agli occhi mentre lo inquadravo Dicevo, non farfuliamo robe strane Comunque, avendo un mostrillo ragazzi, so più o meno come catturarlo, so come portarlo direttamente alla zona del museo Ed è veramente molto, ma molto tosta come cosa Quindi sono proposto per catturare, dato che loro vorrebbero prendere tutti quanti gli animali all'interno della Big Vanilla ragazzi Se volete che vada a catturare qualche altro animale per loro Ditemi quale animale scrivere qua sotto con l'hashtag Minecraft e mi raccomando AIA! Mostrillo come cavolo è fatto? No, non ci credo, io non ci voglio credere che lui mi ha colpito da là in alto Cioè io non, non so, c'è proprio dubito del fatto che lui sia riuscito a farlo Quindi tappezzerò con questo pezzettino qua Allora, facciamo una cosa Perché io ho notato che davanti a un museo che ha costruito il signor Madamarci Non ha messo un albero di Natale E, oh là, ma c'è un'orda di, 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 di snow golem Dov'è? Ragazzi? Quando c'è solitamente questa scritta qua in alto? È perché c'è un'orda di snow golem o di pupazzine di neve, chiamateli come volete Ma dove si nascondono? Eh, non li vedo Molto strano Qua qualcuno ha tralanciato un albero Qua qualcuno ha fatto un lavoro molto molto brutto Quindi eliminiamo anche questo alberello Così magari si tolgono anche le foglie E facciamo una cosa un po' più carina Dobbiamo tenere per bene la big vanilla Se no DeMarc si arrabbia Ditelo a chi fa questi brutti lavori, eh Allora, togliamo anche il paio di neve Comunque, facciamo una cosa Andiamo a vedere per ora il museo a che punto è E in più, dato che nessuno si è preso la briga di fare un albero di Natale davanti al museo Lo faccio io in questo momento Quindi uno, due E poi attorno, come ho fatto con bella faccia Facciamo un bellissimo albero Poi andiamo prima a finire la gabbia che ho creato appunto per il mostrillo del museo di Seffere Perché in realtà ragazzi, essendo che il museo non è ancora pronto E Marci ci sta un pochino lavorando Ho detto, preparo una gabbia dove magari poter tenere il mostrillo direttamente in quella zona Così poi Marci può fare il lavoro tutto quanto con calma Senza dover correre, senza rischiare di dar fuoco a qualunque minima roba Intanto il nostro alberello qua di Natale è stato fatto Ora mi sento molto più felice Quindi andiamo a finire la gabbia E l'ho messa un pochino lontana ma comunque vicino al museo Così nel caso poi posso direttamente prendere e trasportarla all'interno Quando le gabbie saranno un po' più presenti Qua ho lasciato una shulker box Meno male che nessuno l'ha toccata Con all'interno tantissimi bucket di lava Perché è da riempire di bucket tutto quanto all'interno In più, volevo fare un sistema di porte Così per esempio posso chiudere un mostrillo lì dentro Senza che poi lui magari dia fuoco Sia alla zona del museo e poi all'albero della Big Vanilla Sto un pochino rimandando sempre di più il mercatino di Natale che devo fare Promesso ragazzi cascasse l'universo Venerdì lo facciamo Ve lo giuro ragazzi Se no poi mi picchiate lo so molto molto bene Però già così è fatto più o meno bene Il sistema di porte era fatto più o meno in questo modo Allora abbiamo già una crafting table Allora prendiamoci la nostra crafting table E ci prendiamo qua il legno E dobbiamo fare anche il legno qua di Facciamolo direttamente con linea di dark oak Dai uno e due E io volevo mettere una bella porta qua all'ingresso Quindi qua in questo modo Poi fare anche un sistema Dove magari possiamo fare un piccolo corridoio Dove fare poi una seconda porta così Eliminiamo qualunque tipo di problema Possa fare un altro mostrillo Quindi uno, due e tre Un po' in questo modo Così evitiamo che poi mi prenda fuoco tutta quanta la zona E non so se mi basta Ma volevo mettere anche il vetro sopra Però vediamo un attimo Perché secondo me o mi basta proprio al pelo E la cosa potrebbe essere una grandissima botta di fortuna E ragazzi mi sa che mi basta Vediamo uno, due, tre No non mi basta Non mi basta di quanto? Di, 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 di Uno, due, tre, quattro Vabbè Possiamo farmare un altro momento Perché non è raccontato farlo più lungo di uno il corridoio Al solito ci bastava perfettamente Poi dobbiamo andare qua dentro E mettere tutta quanta la lava Quindi prendiamo i bucket Che ho lasciato direttamente qua All'interno della nostra bellissima shulker E io lo so che voi state aspettando quel momento ragazzi Io vado a prendere un mostrillo Lo so molto molto bene In realtà io sto sperando che in questo momento Mentre io buildo questa zona qua Spawni direttamente l'apitos che è al vulcano Dove ha fatto xiao le sue costruzioni Perché se no È un bel disastrino questo che sto pensando di fare ragazzi È bello bello tosto Però volevo farlo per sempre Così mi toglievo una cosa che è veramente Tanto tanto stressante Oppure Potevo aspettare di farlo spawnare qua Però è molto raro Che spawni in natura Direttamente in queste zone Solitamente prima devi portarne tu uno E poi lui spawna più avanti Quindi vediamo un attimino Se riusciamo a fare qua Una bella gabbia piena a zeppa di lava Perché già a farmare tutta quanta la lava Ci ho messo 60 anni Se non mi basta Impazzisco Continuo Dovrebbe bastarci Perché ho ancora 7 bucket Io ci provo Al massimo devo fare avanti e indietro E prendere altra lava Allora sicuramente Qua manca No Non ho messo uno in più Quindi qua manca Qua manca Qua al centro Manca sicuramente Quindi manca Lì Lì E Qua Tecnicamente E 3 bucket dovrebbero bastarci Quindi 1, 2, 3 Vediamo se ci bastano Se no devo fare veramente Dal vulcano Devo prenderne anche dopo Dove Perché mi sparisce la lava in questo modo ragazzi Ma aiuto Allora qua E qua è inutile Dove l'ho messa No ok Ci manca un po' di lava ancora ragazzi Quindi devo fare avanti e indietro Devo prendere tutti quanti i bucket E ti ho lasciato qua dentro Allora Facciamo così Io ci provo ragazzi Sorvolo un attimino sulla mia zona Dove sono i miei razzetti Eccoli qua Ho quasi finito i razzetti Allora Perché non ho volato Big Vanilla Allora ti prego dimmi Che ha sponato un secondo mostrillo Nella mia zona No E tra un po' mancava quasi anche il mio Niente Non spona un secondo mostrillo Già ci ha messo 60 anni a sponare il mio Ok Allora Andiamo direttamente a WCAMXA Così facciamo anche una ricarica di lava E siamo belli che tranquilli Dite che se lo prendo da qua Qualcuno ragazzi Si fa problemi Perché io in realtà Non voglio andare a farmarmelo Dalle altre parti Allora qua Prendiamo un po' di lava Aia Eccoci qua Già me ne ho colpito Dov'è questo mostrillo Che mi ha scolpito Dov'è Davide mi è andato Dov'è Dov'è Eccolo qua Lo vedo già Che mi sta colpendo Allora facciamo una roba Aia 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 Ok va bene Grazie mondo Che ha donato l'armatura In edilità E' molto potente Al tuo big generale di marca Aiuto Aia Ah non ho sulla chestplate E' vero Anche io sono un po' Un po' stupidino Perché non ho sulla chestplate Allora Adesso mi sono allontanato Sarà sicuramente Eeeh Se dicevo Sarà sicuramente Sponato un mostrillo Colpifferone Sono 60.000 Ce ne sono Allora La tecnica segreta È eliminarli tutti Per poi tenerne solo uno Quindi per esempio Quelli sinistra Non lo colpisco Intanto ne stanno sponando Un sacco di altri ragazzi Quindi questa qui Era un po' la tecnica Che avevo ottenuto l'altra volta Mostrillo Tu devi venire con me Bravo Colpisci il tuo padrone Perché tu devi venire con me Hai rotto le scatole Che mi devi colpire ogni volta Dovevamo fare Meno 100 metri adesso Campione Campione No Torns Eeeh Bello Ragazzi Allora Tu mi devi seguire Non va più la lead Come avevo fatto l'altra volta Mi ero Mi ero fatto seguire No raga Finiamo dopo domani Ecco Lui mi deve seguire Ma tu da dove sei uscito Ragazzi Lui mi deve seguire E praticamente Deve dar fuoco a metà Big Vanilla Mi segui No Mi devi seguire Campione Dai seguimi Vi toglierò Tutta questa parte qua Ragazzi Ve la toglierò Perché se no Questo qua non mi segue Perché è timido Tutto quanto Già lo conosco Ti prego Entra Entra Siamo quasi arrivati No Mi tolgo l'armatura Ragazzi Mi tolgo Perché non è possibile Sta roba Per favore Entra Manca pochissimo Abbiamo dato fuoco A mezzo mondo Entra Non rompermi le No ragazzi Le porte Devo togliere le porte Via Via No No Tu devi seguire me No Entra Dentro No Forse è il vetro Che è troppo alto Aia 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 Non posso morire Nella big vanilla Per colpa di un mostrillo Non posso Per favore Mostrillo Dei Perché è così difficile Far seguire Da una bestia Così Ti prego Entra Ok Bravo Bravo Ok Bravo Ora Ora tu Entri E bravo Bravissimo Bravo che mi dè fuoco Ora tu Entri qua dentro No No Mostrillo Calma Calma Marco Stai Ma Saper morire Per colpa di Di un mostro Di fuoco Che È pure uscito Voglio ridere Per non piangere Ah Quanto è difficile La mia esistenza Perché ci sono pure I zombie Ma da dove siete usciti Ma è bene Mostrillo Mi segui per favore Allora Questo sistema qua del vetro Ragazzi è un fallimento totale Vi avviso È un fallimento Più che totale Tu adesso Entri qua dentro E non mi rompi più le scatole Devi No ragazzi Non ce la faccio più Ve lo giuro Sta dando fuoco a tutto Sta dando fuoco a ogni cosa Ah ma perché c'è il vetro sopra Sono No non è vero Non ci voglio credere Non ci voglio credere No c'ho messo un'ora e mezza E non sto scherzando Ce l'abbiamo fatta? No rimani lì dentro Ti prego Basta Ti chiudo dentro con la dirt Sparisci dalla mia vita Essere coso di lava Tu sei preso di mostrillo Tu sei un incubo Sei un incubillo Mamma mia ragazzi Questo ci ho messo di meno Ma perché avevo imparato la tecnica Avevo affinato tutto quanto Il metodo ha finito le mie carote d'oro Non voglio saperne niente ragazzi Avevo capito come farmi seguire Rispetto a mostrillo prima Ma è stato veramente un incubo Tu rimani qua dentro Adesso vado a prenderti la name tag Che sei disponente a mazzo Ti chiamerò incubo supremo Allora fermi un attimo Incubo Incubo supremo Oh bello Mi piace questo nome Bello Bello Adatto all'animale Che è Perfetto Ma guarda te Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Allora facciamo così Ciao Ti saluto in questo modo Allora ragazzi Probabilmente non ci mettevo così tanto tempo A riuscire a non vedere la big vanilla Da mesi E' stato un incubo Ve lo giuro Un incubo Incubo supremo Ti chiamerò per sempre Ottimo Bene Ragazzi Noi ci vediamo un prossimo video Mi raccomando Spero che questo qua vi sia piaciuto A scegliere uno Dei due video qua davanti E a dimostrarvi No Anche i vex Pipistrelli in giro Noe E noe Dove sei Dove Dove sei Ti prego Voglio farti fuori Voglio sfogare tutta la mia rabbia Verso l'incubo supremo Contro i te E vabbè Incolpibili In come ogni volta Sono incolpibili questi mostri Vieni qua Vieni Oh Ti ho colpito Campione eh Ora ci sono il pipistrello Ok Ma era incolpibile Bene Ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Davvero Noi Per favore Supportate la mia Intelligenza La mia E tutto il tempo che ho speso Per portare l'incubo supremo qua Noi ci vediamo in un prossimo video Da Mark è tutto ragazzi Ciao ciao